ciao a tutti sono fabrizio puzzello e sono un manager dell'azienda essence appunto l'azienda che andremo a presentarvi adesso faccio questa breve premessa per un semplice discorso quello che andrete adesso a vedere in questo video sarà un webinar registrato quindi io per motivi di tempo e di registrazione taglierò dei pezzi taglierò dei pezzi ma quello che mi interessa che si capisca il concetto quindi alla fine di questo webinar di questo video poi contattate la persona che vi ha passato il link ok per avere ulteriori informazioni il motivo di questa registrazione di questo webinar è soltanto per uno scopo illustrativo per far capire il nostro business ma nel momento in cui poi la cosa vi piace vi incuriosisce ripeto contattate la persona che vi ha passato il link di modo da poter approfondire il tutto non scartatela sul nascere perché è veramente una grande opportunità che oggi sta cambiando la vita di molte persone bene ci vediamo all'interno del webinar del video mi presenterò ancora all'interno e buona visione a tutti e a dopo ciao ciao bene 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 io mi presento sono fabrizio e sono manager di questa fantastica azienda che questa sera avrò l'onore e gradito compito di presentarvi e svolgo questo fantastico lavoro con mia moglie insieme a mia moglie e sono quasi due anni due anni che faccio questo lavoro è una precisazione prima di andare avanti chiuderò la chat giusto per non distogliere l'attenzione per chi è interessato ad ascoltare veramente bene e magari si può distrarre da ciò che andiamo andiamo a scrivere in chat e tanto le domande me le potete fare tutte alla fine e le domande magari si possono tranquillamente risolvere strada facendo ok così non disturbiamo nessuno bene cominciamo cominciamo dai poi magari avremo modo di conoscerci magari di persona ovviamente piccola premessa questa è una presentazione web e per quanto sia possibile io cercherò di dare il mio massimo per spiegarvi il tutto ma 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 una volta finita questa presentazione il mio suggerimento è di magari contattare subito la persona che vi ha invitato qua questa sera di modo di sentirvi subito con loro e approfondire il tutto magari di persona ok io vedo qua che siamo collegati un po da tutta italia ovviamente non è possibile via web andare a vedere magari di persona toccare con mano di persona tutto ciò che io andrò a spiegarvi però ci tengo a precisare una cosa andiamo a capire il concetto di come possiamo fare questo business e poi se interessati una volta finita la presentazione mettiamoci in contatto con la persona che ci ha invitato che ci ha invitato in contatto con il mio carissimo amico che conosco ormai da vent'anni da più di vent'anni e anche lui come è successo a voi questa sera mi chiamò e mi presentò appunto questo fantastico business e mi propose la possibilità di andare direttamente in azienda a visitarla e a prenderla seriamente in considerazione e sono andato sono andato con lui mi sono preso tre giorni e sono andato con lui a verificare con i miei occhi se tutto ciò che mi stava proponendo fosse una cosa veramente fattibile perché io quando mi ci butto sulle cose mi ci butto con tutto me stesso e sono voluto andare a valutare di persona se questa azienda fosse un'azienda seria fortunatamente ho dato ragione a questo mio carissimo amico che si chiama Alfano Alfano Farinelli lo ringrazierò a vita per questa opportunità che mi ha dato e vi accorgerete alla fine della presentazione che è un qualcosa veramente di incredibile e facile da fare in realtà lo facciamo già tutti quanti e poi capirete il perché la differenza la differenza è che a noi ci pagano di cosa parleremo questa sera di un'opportunità di risparmio e di guadagno la parola opportunità in questo periodo quasi fa un po paura no perché periodo di così grande crisi parlare di opportunità sembra come se venisse giù la manna dal cielo no un'opportunità in questo periodo ma cosa stai dicendo fabbri eppure sì io questa sera cercherò di spiegarvi come avere l'opportunità anche voi di cambiare se volete o di migliorare l'atto economico della vostra famiglia ok dove nel risparmio e nel guadagno perché perché la prima fonte di guadagno secondo me anzi non secondo me è così in realtà è il risparmio perché quando noi andiamo a comprare qualcosa la prima cosa che andiamo a vedere molto molto spesso è il prezzo quindi se io vado a prendere un qualcosa di alta qualità ma a un prezzo buono e quindi già quello è un guadagno perché ho lasciato dei soldi nel mio portafoglio quindi ho risparmiato dei soldi e l'altra cosa che andremo a valutare per chi vuole ok perché in certo punto mi fermerò con la presentazione e andremo poi a a scrutare il discorso guadagno sicuramente se siete qua è perché qualcuno vi ha fatto un invito no non penso che siete capitati per caso su qualche chat avete visto il link e vi siete collegati ma sicuramente avrete avuto un invito come è successo a me due anni fa a me magari di persona questa sera voi qua tramite tramite il web oppure magari perché vi hanno già accennato un qualcosa vi hanno dato uno spunto di ciò che noi stiamo facendo stiamo costruendo e voi volete semplicemente approfondire perché siete curiosi o perché magari la cosa vi interessa e volete volete approfondirla per voi stessi per i punti che abbiamo detto prima per il risparmio per il guadagno o perché voglio una seconda entrata tante persone hanno bisogno magari di un primo lavoro ma tante altre hanno già un primo lavoro ma oggi con questa situazione economica che c'è si fa fatica ad arrivare a fine mese spesso io sento parlare che nelle famiglie oramai non ce la fanno più a lavorare prima si lavorava solo una persona no nell'ambito di una famiglia adesso si lavora in due e spesso comunque si fa fatica ad arrivare a fine mese ok quindi magari avere una seconda entrata perché no fa sempre fa sempre comodo ok anche perché noi abbiamo la possibilità in questo settore di incominciarlo anche part time ok e poi andiamo a definire tutti tutti questi punti il perché voi siete qui questa sera andiamo ad approfondire appunto questo perché penso che ognuno di noi se ha scelto di non andare magari al cinema o a mangiarsi una pizza o a vedersi la tv e questa sera sta qui ad ascoltare un fabrizio qualsiasi che magari neanche mi conoscete ovviamente lo state facendo perché avete il vostro il vostro perché adesso andiamo a vedere punto dopo punto come funziona questo business e magari scoprirete che il vostro perché lo potete risolvere magari con questo business ok magari facciamo parte di questo 80 per cento delle persone no della situazione economica che c'è fuori quindi il nostro perché magari è questo perché vogliamo migliorare appunto la nostra situazione economica ma perché perché tutte queste diciamo scritte che abbiamo messo qui non a caso sono magari le preoccupazioni che ci porta la vita la vita di tutti i giorni magari un imprenditore un commerciante che deve pagare le tasse non arriva o un mutuo da pagare le bollette tempo arrivare a fine mese il tempo magari per chi perché ci sono molte persone magari io ho fatto anche l'imprenditore nell'industria tradizionale e guadagnavo anche molto bene solo che non avevo più tempo quindi magari può essere un perché anche questo tante persone che magari guadagnano bene ma non hanno più la possibilità di gestire il proprio tempo quindi può essere una situazione anche questa no per andare a migliorare la loro vita sociale di nella famiglia e quant'altro ok molto spesso sentiamo parlare in questo periodo di crisi che parola crisi ma crisi attenzione significa opportunità e in questo periodo avere un'opportunità di migliorarsi e di magari andare ad affrontare al meglio l'arrivo a fine mese o quant'altro come dicevo prima di tempo per l'imprenditore non sarebbe male immagino ok e quindi andiamo a spulciare a vedere di che cosa realmente si tratta la nostra opportunità che vi andremo a presentare questa sera si chiama Essence sì c'è scritto Essence lì con tutti quei cerchetti se voi vi applicate un attimino riuscite a capire che c'è scritto Essence anche io all'inizio ho fatto fatica a capire che c'è scritto Essence questa è la nostra azienda e andiamo appunto a parlare a parlare di lei perché abbiamo messo questa slide di queste società perché perché in questo periodo che stiamo vivendo oramai anche quasi quasi da dieci anni ok di crisi è molto strumentalizzata questa parola no però ci sono delle società come Alibaba che immagino che tutti conosciate ebay amazon che appunto in questo periodo tutti si lamentano della crisi chiudono negozi questo quell'altro è eppure queste società stanno facendo dei fatturati incredibili stanno avendo una crescita incredibile e perché perché stanno avendo questa crescita secondo voi ma perché semplicemente non è vero che non ci sono più soldi che le persone non hanno più i soldi è che il mercato si sta spostando in realtà i vecchi lavori che esistevano una volta oggi purtroppo o per fortuna per alcuni e non ci sono più perché perché l'evoluzione c'è e ci sarà sempre adesso che noi siamo d'accordo o no questo è un altro discorso perché io posso capire magari la nonnina che mi dice ma no io sono abituata che ne so con il negozietto sotto casa ma il commercio non sta a guardare la nonnina comunque sempre un continuo evoluzione ok e ci sono questi colossi oramai nati proprio appunto in questi periodi di crisi che stanno facendo dei fatturati incredibili perché perché stanno sfruttando la tecnologia che oggigiorno oramai avanza i vecchi lavori molti non ci sono più perché perché stanno nascendo nuovi tipi di lavoro la tecnologia l'internet oggi sta dominando ok e questi sono dei colossi che appunto lavorano su internet amazon è conosciutissimo un sito e commerce ebay alibaba alibaba pensate che nell'arco di una settimana fa un intero fatturato di tutto di tutti gli e commerce a livello italiano di tutti gli e commerce a livello nazionale cioè è un colosso ma perché vi sto dicendo questo per farvi capire che oramai il commercio come vi ho accennato prima o vogliamo o non vogliamo comunque va avanti ok e noi siamo appunto in questo settore nel settore online ok vendita diretta online anche online appunto la nostra azienda si chiama essence andiamo a vedere un po chi è questa essence nasce nel 2011 a borneau in repubblica cieca io la prima volta quando alfano mi disse vieni con me andiamo a vederla un attimino così non ci avevo pensato dove era borneau e mi sono sparato un po di ore di macchina per andarla a vedere però ne valsa la pena ne valsa veramente la pena azienda di proprietà attenzione non è l'azienduccia nata in un garage e buttata lì per casa no è un'azienda di proprietà e questo dà fiducia anche alle persone perché comunque un'azienda di proprietà io vi invito poi andare sul sito a vedere che tipo di azienda è tecnologica al massimo e questo vuol dire che un'azienda che vuole resistere sul mercato non che dall'oggi al domani poi sparisce siamo aperti in 16 paesi anche uno in sud africa il senegal da pochissimo è sempre 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 in continua espansione ormai stiamo diventando anzi siamo già diventati una multinazionale molto molto importante con dei fatturati molto importanti novembre 2014 aprini in italia con sede ad udine in realtà abbiamo già cambiato una prima sede in italia perché perché era diventata già troppo piccola era diventata non ci stava più dentro ma perché perché noi italiani magari ci arriviamo dopo ma quando ci arriviamo ragazzi mettiamo la quinta rispetto ad altri noi veramente mettiamo la quinta oggi essence italia è la seconda filiale a livello mondiale vuol dire che sta funzionando sono due anni un po più di due anni che aperte in italia e credetemi che sta avendo dei fatturati veramente 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 incredibili ok andiamo avanti questo è il nostro presidente che per le donne le donne stravedono vabbè effettivamente è un bell'uomo dico io no essence un'opportunità per migliorare la qualità di vita sia personale che professionale e finanziaria io una cosa ci tengo a precisare quando faccio vedere questa slide quella la nostra azienda a borneau molte persone mi dicono ma cosa fate vendete macchine perché sembra un autosalone no abbiamo fatto un meeting lì a borneau no per l'anniversario e fuori sembrava veramente un auto un autosalone con tutte queste bmw e peugeot parcheggiate fuori no non rivendiamo macchine ma in realtà il nostro presidente le regala le macchine se avete capito bene le regala le macchine adesso capirete anche come poterne prendere una anche voi se veramente la cosa vi interessa ovviamente in che mercato siamo andiamo a scrutare un attimino su che mercato siamo perché ok tante belle parole ma con l'accenno che ho dato anche prima sicuramente su web ci sono tante tante belle frottole ok come le chiamo io bisogna trovare un mercato dove è funzionale e soprattutto bisogna trovare un mercato dove costantemente noi possiamo fare dei fatturati perché perché comunque l'azienda paga perché ci sono dei fatturati non regala soldi il mercato dove noi oggi andiamo a sviluppare il nostro business è il mercato del largo consumo dove tutti noi non possiamo farne a meno mercato di largo consumo e benessere noi oggi veniamo tartassati in televisione che ne so di prodotti di alimentazione di cosmetica di profumi di quant'altro di benessere prendi questo integratore perché ti fa bene quello quell'altro ok e quindi siamo in un mercato in forte espansione dove non c'è crisi perché perché tutti noi comunque dobbiamo consumare adesso andiamo a prenderlo in un'azienda o in un'altra azienda o in un supermercato o nell'altro supermercato comunque consumiamo questi articoli io mi faccio la barba mi lavo i capelli anche se ne ho pochi però voglio dire lo shampoo lo uso trucchi e quant'altro e andiamo a vedere appunto che cosa sono questi articoli che noi abbiamo siamo nell'integrazione alimentare oggi giorno come ho detto già prima cioè ci tartassano no in tv facciamo anche un po di pubblicità che ne so supradin quello quell'altro sono tutti integratori che oramai fanno parte del nostro fabbisogno di tutti i giorni no ma perché perché l'alimentazione oggi giorno non è più come quella di una volta quindi dobbiamo integrare per forza con con gli integratori e quindi noi siamo appunto in questo settore in questo settore che non possiamo più farne a meno oppure siamo nell'igiene personale io penso che qua non ci serva neanche una spiegazione cioè tutti quanti ci laviamo tutti quanti abbiamo bisogno di una crema di uno shampoo bagno schiuma quello e quell'altro adesso lo andiamo a comprare in un supermercato o lo andiamo a comprare online ma comunque lo dobbiamo comprare quindi un settore che non avrà mai crisi a meno che uno non si lavi ma non preoccupatevi perché c'è anche altro se non ci laviamo abbiamo anche i profumi poi c'è la cosmetica la cosmetica fa dei fatturati che è una roba incredibile io quando sono andato a vedere a vedere i fatturati la cosmetica fa dei fatturati mamma mia cioè incredibili addirittura magari qualche anno fa non era così ma ad oggi cioè la cosmetica quasi il 50 per cento il 48 per cento del fatturato della cosmetica lo fa l'uomo ma è vero è reale cioè prima magari andavi in un centro estetico e vedevi solo donne adesso quasi il 50 per cento se non più sono uomini che vanno in un centro estetico ok cerette e quant'altro quindi la cosmetica che non è soltanto un discorso di smalto o rossetto ma è anche un discorso di creme poi abbiamo i profumi come vi accennavo prima dietro ai profumi c'è un business che fa paura fa paura e noi oggi abbiamo la fortuna cioè la fortuna la fortuna in realtà l'ha creato il nostro presidente ad andare a collaborare perché oggi c'è una partnership molto stretta con l'azienda che ci fa le fragranze con un'azienda che si chiama seluz è una tra le aziende tra le tre aziende più importanti che fanno fragranze per tutte le grandi marche tutte le grandi greffe ok i nostri profumi non sono gli equivalenti o il facsimile io quando sento sta parola dei nostri profumi facsimile mi ribolle il sangue mi ribolle il sangue veramente no assolutamente no sono originali la nostra fragranza è originale addirittura siccome l'ombra onde parfum cioè onde toilette e onde parfum no come profumi e quello che troviamo nel commercio tradizionale in profumeria molto spesso si fermano al 13 14 per cento di fragranza e noi addirittura abbiamo un contratto che va fino al 20 per cento di fragranza 20 per cento di fragranza quindi non è l'equivalente o il facsimile è la stessa identica fragranza col 20 per cento di fragranza dentro addirittura migliore ok poi è uscita un'altra linea da pochissimo l'igiene casa anche qua io credo che non ci sia bisogno di spiegazione l'igiene casa tutti laviamo i piatti se non li laviamo a mano c'è per lavastoviglie laviamo il bucato per il bagno per i vetri per i mobili e quant'altro tutti tutti i nostri articoli integrazione personale cosmetica profumi gene casa sono tutti articoli di altissima qualità ok apprezzo veramente veramente da capogiro per quanto li paghiamo poco e sono tutti prodotti naturali ok visto questo andiamo a spulciare appunto il discorso del business in europa nel 2017 i mercati hanno avuto una crescita un fatturato del 42 per cento ma io mi soffermerei più sul secondo dato in italia ha avuto un incremento un fatturato del 53 per cento signori qui stiamo parlando di un qualcosa che fa veramente paura paura il 53 per cento allora a me capita ogni tanto sono sincero non guardo più i telegiornali perché sono sempre solite cose ogni tanto li guardo anche per tenermi aggiornato quando c'è una crescita del 2 per cento di un'azienda italiana non so facciamo dei nomi all'italia all'italia oddio da un po che non ha una crescita ma magari che ne so la fiat la fiat è un colosso italiano anche se adesso si è spostata in america no però è un simbolo italiano e è capitato di avere degli incrementi dello 0 5 l'un per cento il 2 per cento non so neanche se l'abbiano mai avuto come incremento cavolo tutti i telegiornali ne parlavano qui abbiamo un incremento del 53 per cento 53 per cento è più della metà cioè veramente un qualcosa di incredibile quindi apriamo un attimino le orecchie cerchiamo di andare a capire in che mercato stiamo lavorando che cosa ci può dare questo mercato e che cosa può dare a noi questo mercato ricordiamo che ricordiamoci sempre che siamo in quel famoso periodo di crisi questa parola molto strumentalizzata che ci può veramente dare qualcosa per svoltare o per cambiare per quanto vogliamo la nostra vita queste sono le aziende che con in cui noi collaboriamo come appunto accennavo prima c'è la seluz noi siamo stati alcuni di voi qua in chat anche a visitarla questa azienda in turchia a istanbul e credetemi che è un qualcosa di incredibile un'azienda super 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 tecnologica io come sono entrato dentro mi sembrava non di essere a istanbul in turchia ma sembrava un'azienda svizzera tedesca cioè iper iper precisi è un qualcosa di incredibile e avrete sicuramente l'occasione di andarla a visitare anche voi di persona se incominciamo a collaborare ma potete tranquillamente anche andare su internet a vedere chi è questa azienda questa è appunto la seluz quello che ci fa le fragranze per i nostri per i nostri profumi poi abbiamo delle altre aziende che magari se volete andatevele a vedere su internet perché anche loro di altrettanta importanza ok art cosmetic ingredia il k2 farm dogma sono delle aziende quello che ci tengo a presi da precisare perché faccio vedere la slide di questi nostri partner perché in realtà essence è vero che esiste dal 2011 è un'azienda tra virgolette giovane anche se abbiamo passato il periodo di lancio no il pre lancio il pre lancio che si dice molto in nelle aziende di questo settore no ma in realtà noi siamo in partnership con delle aziende come seluz k2 farm vabbè tutte queste che vedete qua scritte che in realtà non sono da 7 8 anni sul mercato come noi ma sono aziende che sono dei colossi che sono già da tempo sul mercato quindi la sicurezza c'è la nostra azienda questa crescita spaventosa che sta avendo la sta avendo appunto anche per questo per la collaborazione con queste aziende importanti ma soprattutto per la validità dei prodotti ok andiamo avanti quindi oltre ad avere un prodotto di alta qualità no che è uno degli obiettivi che essence a avere un prodotto di altissima qualità perché perché molto spesso le persone non prendono un prodotto di qualità semplicemente per un motivo perché signori la qualità piace a tutti se non viene preso un prodotto di qualità è sempre soltanto per un motivo perché costa perché la qualità oggi costa quindi magari ci dobbiamo accontentare ok quindi l'obiettivo di essence uno degli obiettivi di essence è far sì che chi oggi non ci può permettere la qualità in essence oggi può quindi andare a prendere un prodotto di alta qualità a prezzo basso avere un risparmio dei vantaggi ok e questo è stupendo io quando ho scoperto questo mondo in essence con questi articoli mi si è aperto un mondo finalmente oggi c'è un'azienda che dà la possibilità a tutti a prescindere dal nostro tenore di vita economico ok del nostro portafoglio diciamolo così di avere un prodotto di alta qualità dove io magari sarei stato costretto di andare in farmacia e prendere che cavolo non so un dentifrice o una crema a tot soldi oggi lo posso prendere tranquillamente come se vado quasi a prezzo di supermercato e questo è favoloso favoloso ok e poi ve ne renderete conto anche da soli voglio farvi capire il perché perché adesso voglio dire non è che gli altri le aziende diciamo tradizionali nel commercio tradizionali sono tutti ladri no è che dietro nel commercio tradizionale c'è un'altra fila che va pagata ok qua noi abbiamo fatto l'esempio della seluz che è quella in partnership con noi che ci fa le fragranze ok che se va non so facciamo ancora pubblicità un dolce gabbana a prendere le fragranze da lei e deve seguire un canale distributivo che non è altro che il commercio quello che c'è fuori il tradizionale quindi ci sarà un grossista e quindi ci sarà il suo brand il packaging ci sarà la gente il trasporto il negoziante fino ad arrivare a noi consumatori finali e ovviamente ci sarà un incremento di prezzo magari che ne so andiamo a prendere un profumo generico buttiamolo lì a 50 70 euro 100 euro dipende diciamo i classici profumi perché poi ci sono dei profumi che vanno anche oltre le 100 euro io di se ad esempio usavo il crede no il crede se lo vai a prendere in profumeria all'incirca sono sulle 200 220 euro dipende da dove lo vai a comprare o addirittura se lo vai a comprare online oggi abbiamo la possibilità di andarla a prendere da noi con un prezzo veramente veramente interessante ok ma perché perché tutto questo oggi è possibile perché noi andiamo a creare il canale diretto noi andiamo direttamente in azienda a prendere a prendere il nostro profumo facciamo sempre esempio del profumo ma con tutti gli altri articoli l'unica cosa che dobbiamo pagare è il nostro trasportatore che noi usiamo GLS per quanto riguarda l'italia ma perché perché ancora il nostro presidente non ha messo le gambine come dico sempre io ai nostri articoli ma vediamo di provvedere di provvedere anche questo ma ma attenzione c'è anche la possibilità di non pagarlo il trasporto e adesso andremo a vedere anche questo una cosa molto importante voglio sottolineare sul commercio tradizionale e non solo qual è la cosa che va a influire molto sul prezzo finale del consumatore è la pubblicità è la pubblicità signori quando noi vediamo passare una bella donna in pubblicità un bell'uomo in pubblicità che pubblicizza il profumo dei vari brand che ci sono in giro ma secondo voi quello là viene pagato o no io faccio sempre l'uccellino di del piero no l'esempio di luce dell'uccellino di del piero ma del piero secondo voi i soldi li vorrà per pubblicizzare st'acqua oppure no e secondo voi questo va a migliorare la qualità di quell'acqua o la rende solo più conosciuta sicuramente la rende solo più conosciuta ok quindi se noi andiamo ad eliminare tutti questi vari passaggi cosa succede succede che io vado a prendere un prodotto un articolo direttamente a prezzo di fabbrica è ovvio che anche l'azienda anche lei guadagnare e per investire ancor più sulla qualità del prodotto ok ma sicuramente io vado a prendere un prodotto di alta qualità perché l'azienda è riuscita ad investire di più su quel prodotto ad un prezzo veramente bassissimo perché guardate che il 70 quasi il 70 per cento anzi non quasi anche di più di qualsiasi cosa che noi andiamo ad acquistare viene assorbito dalla pubblicità il prezzo finale di qualsiasi articolo che noi andiamo ad acquistare il 70 per cento se ne va in pubblicità televisione radio giornali e quant'altro viene assorbito dalla pubblicità allora io dico se noi andiamo ad eliminare tutti questi vari passaggi tanto anche loro sono dei consumatori anche loro possono acquistare online da essence ok ma soprattutto andiamo a togliere questi soldi della pubblicità l'azienda fa una bella cosa nella grande crisi del 29 che c'è stata si sono inventati un qualcosa di veramente incredibile ok che poi in realtà non si sono inventati l'acqua calda dico sempre io perché è un qualcosa che ci riflettete se ci riflettete è normalissimo che si va a risparmiare e perché no anche guadagnarci la grande distribuzione della vendita diretta sì noi siamo nel settore della vendita diretta ok andiamo direttamente in azienda a comprare detto questo sicuramente abbiamo capito da dove vengono fuori tutti questi risparmi diciamo di andare a comprare un prodotto di alta qualità a basso costo andiamo a vedere quali sono gli altri obiettivi che essence oggi ci mette a disposizione perché ci siamo io mi voglio soffermare un attimo anzi torno un attimino indietro sulla slide su questa slide qui non abbiamo parlato abbiamo parlato di tutto ma non abbiamo parlato fondamentalmente dove vanno a finire questi soldi della pubblicità in realtà questi soldi della pubblicità essence ce li ributta sul mercato quindi ci paga la pubblicità ma non la classica pubblicità nel tradizionale adesso andiamo a parlare appunto anche di questo quindi qual è l'altro obiettivo gli altri obiettivi di essence creare un team creare un team di collaboratori che guadagnano come col discorso della pubblicità quante volte vi è capitato di andare magari in un ristorante o in un cinema guardare un film vi siete divertiti vi è piaciuto e avete fatto questa questa pubblicità no io lo chiamo pubblicità passiva perché perché noi magari facciamo pubblicità tutti i giorni su qualsiasi cosa su un ristorante una pizzeria sul cinema su un acquisto che abbiamo fatto un telefonino ma non ci ritorna mai indietro nulla e noi giornalmente aumentiamo fatturati alle aziende facendo la pubblicità il passaparola facendo la stessa identica cosa in questo sistema oggi abbiamo la possibilità di guadagnare ok creando un team un team di collaboratori e guadagnando attraverso un sistema chiamato network marketing magari molti avete già sentito parlare di questo sistema che si chiama network marketing e magari molti hanno anche sentito parlarne male del discorso del network marketing per quello che accennavo all'inizio perché purtroppo purtroppo ci sono tante aziende che sfruttano questo nome di network marketing per cose fittizie in realtà in network marketing credetemi che è un qualcosa di veramente incredibile viene studiato nelle più grandi università la bocconi di milano la luisi di roma vengono fatti tesi di laurea sul network marketing è un qualcosa di veramente incredibile questa sera spiegheremo appunto il network marketing di essence ok quindi andiamo avanti a spiegare appunto il business in essence ma andiamo a vedere nello specifico di quali articoli oggi noi ci occupiamo perché perché dietro un business comunque ci deve essere comunque un fatturato andiamo a vedere appunto qual è il nostro settore come accennavamo prima e quali sono i nostri articoli io darò un rapido accenno di quello che abbiamo anche perché col web sicuramente non potrò darvi la sensazione che si ha quando si va a provare direttamente il prodotto quindi come vi ho detto all'inizio alla fine di questa presentazione prendete subito un secondo appuntamento con via con chi vi ha invitato e fatevelo provare subito il prodotto toccatelo con mano ok quindi andiamo a vedere quali sono i nostri prodotti iniziamo magari con la linea home pharmacy questa nostra linea di integratori totalmente naturali totalmente naturali non lo so possiamo spaziare col nostro detox un detossinante praticamente va a pulire il nostro organismo in qualcosa veramente di incredibile abbiamo l'integratore per tenere sotto controllo il peso abbiamo l'integratore per il mal di testa io vi sto dando ovviamente degli accenni ma credetemi che non serve solo a questo perché sennò andiamo a finire a mezzanotte qua per finire la presentazione per far capire appunto a che cosa che cosa servono e che tipo di integrazione abbiamo logicamente poi andata ad approfondire perché non servono solo a questo questo nostro articolo per il mal di testa l'edes ad esempio è un qualcosa di incredibile io lo do anche ai miei figli che vanno a scuola la mattina per aumentare la percezione la percezione mentale quindi per il mal di testa la vitamina c per il gonfiore delle gambe per tenere sotto controllo il peso come ho detto per il sonno ma non è un sonnifero è per dormire meglio dove vado agire sulla fase rem ok abbiamo le spurre per il nostro organismo abbiamo l'integratore la pillola blu diciamo diciamola così per l'uomo che non deve chiedere mai solo totalmente naturale poi abbiamo la nostra linea beauty uscita da pochissimo come vi dicevo all'inizio non è un discorso solo di rossetti rimmel o quant'altro che qua io penso che non c'è non c'è molto da dire perché i prodotti sono fantastici io devo essere sincero non li uso perché non mi trucco ma attenzione la linea beauty non è soltanto trucchi ma è anche creme quelle le uso e quelle sono spettacolari sono favolose come vi dicevo prima il 50% quasi il 50% del fatturato li fa l'uomo e io sono un uomo e uso anche le creme ok poi abbiamo questi due articoli che sono un qualcosa di veramente eccezionale e quasi dispregiativo chiamarli creme perché sono delle pomate per le mani e per i piedi sono veramente qualcosa di incredibile ed unico poi abbiamo la nostra linea solare anche questa è da provare io per esempio sono uno di quelli che quando va al mare non metteva creme metteva creme perché mi dà fastidio quando vado sulla sabbia che mi si appiccicava tutta la sabbia addosso da quando ho incominciato ad usare i nostri prodotti della linea sun care beh io li metto tranquillamente non si attacca la sabbia non si attacca la sabbia addosso è veramente qualcosa di incredibile ovviamente non hanno solo questo di vantaggio sono veramente veramente incredibili e poi la qualità prezzo poi abbiamo i profumi per la casa e qui qui mi si è aperto un mondo praticamente perché noi usiamo mettere molto in casa i bastoncini profumati no e andavo sempre a comprarli però cavolo ero sempre lì a comprare questi cavolo di bastoncini e varie fragranze profumate e quant'altro noi da quando abbiamo scoperto quelli di essence praticamente ci dimentichiamo di averli ma non perché non si sentono cavolo se si sentono ti dimentichi di comprarli per quanto durano sono eccezionali e poi hanno una fragranza incredibile andiamo avanti che mi sto dilungando anche un po troppo questi questi articoli ovviamente finita questa presentazione io lo ripeto all'infinito andateli a toccare con mano perché sono veramente qualcosa di incredibile poi abbiamo i due nostri cavalli di battaglia li chiamo io no gli articoli aloe vera l'altro lo vediamo subito dopo aloe vera penso che non c'è da dire molto perché non l'abbiamo sicuramente scoperta noi esiste dai tempi di tempi l'aloe vera è un qualcosa di incredibile l'aloe vera la nostra aloe vera è la barba densis la migliore assoluta sul mercato abbiamo la nostra linea dental care tutto per ciò che riguarda la nostra i nostri denti il nostro cavo orale la linea per l'uomo scuima da barba detter dopo barba anche qua è quasi dispregiativo chiamare questa crema dopo barba solo dopo barba perché è una crema aloe al 50 per cento cioè per farvi un esempio viene usata sapete gli arrossamenti da pannolino dei bambini beh viene usata anche per quello se viene usata per il bambino appena nato cioè poi abbiamo la nostra linea di integrazioni all'aloe sia in capsule che da bere abbiamo con la vitamina c abbiamo con gusto uva appena uscito con gusto kai champi il nostro pronto soccorso io lo chiamo così aloe spray aloe spray da spruzzare e il nostro pronto soccorso da portare sempre in borsetta l'uomo se lo può mettere anche in tasca o lo lascia in macchina lo si può usare in svariati modi mia figlia ha avuto le placche in gola quindi le abbiamo spruzzato anche in gola e aloe e aloe si può fare ok contro scottature contro pizziche di zanzare lo so possiamo usare in infinità in un'infinità di modi poi abbiamo la nostra linea colostro il nostro cavallo l'altro cavallo di battaglia la linea colostro io sono sincero la prima volta che ho sentito il colostro magari l'avevo già sentito altre volte ma non me lo ricordavo che cos'era sicuramente le donne più che noi maschietti sanno che cos'è il colostro non è altro che il primo latte che si dà ai bambini la battuta che si fa subito la evito ok perché questo nostro colostro è il colostro di mucca e anche qua mi si è aperto un mondo tutto ciò che c'è dietro al colostro io per esempio non sapevo che tutte le grandi marche anche diciamo nel tradizionale se usano il colostro anzi quasi tutte le usano ma per avere un prodotto di alta qualità se c'è dentro il colostro aumenta la qualità di quel di quel prodotto basta pensare il perché perché se viene dato nelle prime ore della nascita del nascituro è il motivo ci deve essere se usato nella cosmetica fa tutti questi effetti il colostro abbiamo il colostro in capsule abbiamo la nostra yogurtiera con i probiotici è veramente qua qua è un qualcosa di veramente veramente incredibile noi abbiamo fatto una suddivisione del prezzo facendo un chilo di yogurt con qualsiasi tipo di latte prevalentemente meglio magari latte intero beh noi lo andiamo a pagare rispetto a quello che c'è sul mercato 20 22 centesimi mi sembra faccio l'esempio non so perché conosce la confezione dello dello yomo ok facciamo sempre sta benedetta pubblicità passiva per altri per far capire beh non so bene o male sta sull'euro quello quel barattolino del dello yomo noi siamo su 22 centesimi ma andiamo a prendere uno yogurt totalmente naturale con probiotici poi abbiamo la nostra linea crema colostro cioè ragazzi qua qua dovete assolutamente profano provarla è un qualcosa veramente veramente di un buono ma di un buono incredibile poi tutta la nostra linea per ciò che guarda riguarda la cosmetica e anti age andiamo avanti non mi dilungo più di tanto questa la linea casa appena uscita come dicevo prima per il bucato non ci sono tutte le foto qua di tutti gli articoli nuovi che sono usciti per i vetri per la cucina per il legno per il bagno la linea conce ovviamente sono dei concentrati alcuni sono concentrati alcuni sono già diluiti se andiamo a prendere quelli concentrati abbiamo i nostri appositi diluitori e io penso che anche qua c'è da dire ben poco sono articoli che comunque eccezionali costano veramente una stupidaggine e sono degli articoli attenzione di altissima qualità a prezzo veramente quasi da supermercato non stiamo parlando vogliamo fare ancora pubblicità passiva dello svelto che c'è dentro componenti chimici io non mi vergogno a dirlo queste cose perché ho fatto delle ricerche so quello che sto dicendo perché magari qualcuno dice cosa stai dicendo lo sto dicendo perché mi sono andato ad informare e sono andato a fare delle ricerche quindi so che dentro allo svelto facciamo ancora sta cavolo di pubblicità ci sono dei componenti chimici io oggi quando vado a proporre un mio articolo di essence so che sto proponendo un articolo un prodotto di alta qualità totalmente naturale l'altro giorno mi è arrivato un messaggio di una mia collaboratrice che ha delle allergie lei non poteva toccare vari tipi di detersivi doveva usare i guanti e non solo detersivi ma doveva andarsi a prendere degli articoli per lavarsi diciamo per l'igiene che costavano tantissimo perché gli venivano degli irritazioni oggi con essence non ce le ha più e cavolo se è una soddisfazione questa cavolo se è una soddisfazione ma pensate un attimino oltre alla soddisfazione ad avere un articolo di alta qualità a prezzo veramente vantaggiosissimo come si può sentire oggi la nostra amica poter non avere più la necessità di usare i guanti e potersi tranquillamente lavare senza avere più il timore delle allergie poi abbiamo la nostra linea dei profumi vi ho già accennato prima ovviamente non c'è su il brand delle altre aziende ma c'è su il nostro brand sono tutti i nostri articoli ovviamente sono brandizzati con la scritta essence ma tanto io non è che quando vado fuori col profumo dolce gabbana o che ne so il cred che usavo prima io me lo mettevo sulla spalla e andavo in giro con la boccetta perché dovevo far pubblicità io andavo in giro col profumo con l'essenza addosso ok la stessa identica cosa solo che volete sapere un segreto l'essenza di essence si sente di più 20 per cento di essenza poi abbiamo la nostra linea unique la nostra linea esclusive di unique uomo e donna sono dei profumi veramente eccezionali anche loro e poi sono usciti anche i profumi niche che non sono altro che i profumi di nicchia per farvi un esempio se li andiamo a comprare su internet costano dalle 3 400 euro in su ok noi abbiamo la possibilità di andarla a prendere 60 euro a noi 90 euro quindi quello che ho appena detto il discorso delle fragranze che si ferma dall'8 al 14 per cento 30 ml attenzione 30 ml noi abbiamo un profumo di 50 ml con una fragranza del 20 per cento lo dirò all'infinito questo perché magari sento dei miei collaboratori appena registrati e magari tante cose magari non gli sono magari state spiegate vanno a dire il facsimile a me veramente mi ribolle il sangue dentro perché non è il facsimile è un profumo originale originale con la sua fragranza ci siamo 50 ml 20 per cento 20 euro al pubblico e come averli andiamo sul sodo io vado sul mio bel sito www.essence.it senza cambiare le proprie abitudini delle persone vado a far fare il cambio fornitore invece di andare in profumeria per quanto riguarda il profumo per quanto riguarda che ne so gli integratori in erboristeria o andare a prendere il detersivo nel supermercato vado direttamente online come abbiamo sempre fatto con amazon ebay e tanti altri siti e commerce solo che andando a prendere quello che mi serve direttamente dalla essence ho un risparmio da un 30 a un 40 per cento quindi ciò significa che oltre ad avere un prodotto di altissima qualità ho anche dei soldi che mi rimangono in tasca mediamente una famiglia media di tutti quegli articoli che siamo andati a vedere la fa una spesa da 50 100 euro 200 euro io credo di sì e perché non andarli a fare con prodotti di alta qualità che oggi ne abbiamo la possibilità qua abbiamo un esempio di 70 200 euro e c'è scritto 50 100 punti perché siccome non siamo soltanto in italia l'azienda ha unificato la moneta quindi facciamo la nostra bella registrazione in essence.it ok dove servirà il codice dello sponsor perché è vero che noi siamo nell'online come amazon quant'altri ma è vero anche che non è un sito e commerce come nel tradizionale abbiamo bisogno di un referente cioè in questo caso dello sponsor perché perché se no decadrebbe il discorso della pubblicità chi mi ha presentato questa azienda mi darà il suo codice in questo caso l'amico che vi ha invitato questa sera mi darà il suo codice tramite il suo codice io mi registrerò gratuitamente nel sito di essence ok e anch'io potrò fare direttamente il mio ordine contestualmente all'ordine cioè all'iscrizione alla registrazione gratuita io andrò a fare anche l'ordine perché perché se io vado a registrarmi su amazon è perché ho intenzione di comprare la stessa identica cosa succede anche qua io vado a registrarmi e faccio subito l'ordine è vero che la registrazione è gratuita ma se io faccio la registrazione poi magari mi dimentico per un qualsiasi motivo di fare l'ordine ok dopo un mese questa registrazione scade e viene cancellato l'ordine noi nel nostro gruppo nel nostro team non facciamo registrazioni a zero anche per un semplice motivo perché non regaliamo codici noi diamo la possibilità a chi vuole di andare ad acquistare direttamente in azienda e per chi vuole anche la possibilità di avere un'opportunità di guadagno non regaliamo codici nel mio gruppo non ci sono registrazioni a zero perché non ha senso fare una registrazione ad uno che non vuole comprare semplicissimo ok quindi fatta la mia bella registrazione insieme al mio amico che mi ha presentato questa opportunità che mi ha invitato questa sera qua vado a fare subito il mio primo ordine 40 per cento di sconto risparmio io potrei tranquillamente fermarmi anche qua con la spiegazione con la presentazione perché perché a chi è che non interessa un prodotto di alta qualità abbiamo detto a tutti a chi è che non interessa risparmiare abbiamo detto anche qua a tutti attenzione non vi ho detto ancora tutto abbiamo la garanzia soddisfatti o rimborsati su tutti i nostri articoli adesso attenzione un attimo avere la garanzia soddisfatti o rimborsati ciò significa che se io vado a prendere uno shampoo lo apro lo uso e lo riporto indietro lo rispedisco indietro e mi ridanno indietro i soldi qui o l'azienda è pazza o ha veramente un prodotto di alta qualità dietro perché sennò dopo un mese chiude questa azienda e siccome dopo otto anni sette anni è ancora aperta e sta andando alla grande vuol dire che il prodotto è buono è un sinonimo di garanzia di qualità dell'azienda quindi detto questo quali sono i rischi che noi possiamo andare ad incombere facendo una registrazione andare ad acquistare in essence non ce ne sono non ce ne sono io faccio il cambio fornitore e risparmio già solo per questo motivo io non vedo il motivo perché una persona ci dovrebbe dire di no abbiamo la garanzia soddisfatti o rimborsati se proprio non gli dovessero piacere io ancora non ho trovato una persona che mi abbia detto così che non gli siano piaciuti i nostri articoli ma se dovesse succedere si rinvia tutto indietro e ci ridanno indietro i soldi valla a fare in un supermercato normale non credo che vi ridanno indietro i soldi quindi solo per questo motivo varrebbe la pena semplicemente registrandosi e facendo subito un primo ordine andare a risparmiare ok ma ma attenzione non è finita qui andiamo ad elencare un attimino prima forma il risparmio che sicuramente è conveniente per tutti senza cambiare attenzione le abitudini delle persone perché lo stanno già facendo oggi tante persone acquistano online e se ancora non l'avete fatto acquistate online perché sarà il futuro signori seconda forma di guadagno incaricato indipendente che cosa significa significa che lo stiamo già facendo la pubblicità passiva che abbiamo finora fatto si può trasformare in una pubblicità attiva interessante vero? posso continuare? io adesso la chat chiusa ovviamente non la riapro perché do per scontato do per scontato che è normale che posso continuare perché fino adesso non abbiamo visto una cosa che sia controproducente per la persona che si registra addirittura con la garanzia soddisfatti o rimborsati io posso restituire tutto indietro ok? quindi siete interessati ad andare avanti ad ascoltare magari oltre al discorso del risparmio anche al discorso del guadagno io credo di sì perché se in realtà questa sera voi siete qua non è perché volete fare un favore al vostro amico ma perché magari facciamo parte di quell'80% di persone che abbiamo visto all'inizio che vuole migliorare qualcosa della propria vita quindi andiamo a vedere nello specifico come poter guadagnare in essence col passaparola network marketing bene andiamo a vedere come funziona l'opportunità di risparmio e guadagno conoscete queste? sì sicuramente sì quante ne abbiamo dentro ai nostri portafogli? io ho conosciuto addirittura una signora sapete quelle che si srotolano i portaschede che si srotolano beh ce ne aveva dentro 27 27 di queste ma che cosa servono queste schede? perché quando andiamo in un supermercato ci fanno fare la scheda la scheda punti ce la fanno fare per un motivo per gli sconti e per i regali ma soprattutto ce la fanno fare per fidelizzare il cliente è vero o non è vero? assolutamente sì e per questo motivo perché se io ho un supermercato ma facciamo l'esempio adesso lo fanno anche nelle pizzerie no? una pizzeria dove magari se vai a mangiare lì con la scheda ti caricano i punti sulla scheda e magari di fianco c'è un'altra pizzeria e tu di conseguenza dove vai? lì perché se riempi quella benedetta scheda la volta dopo magari hai la pizza gratis e servono per queste ok? perché faccio questo esempio? perché in realtà anche noi usiamo il discorso dei punti e adesso andiamo a vedere nello specifico allora noi abbiamo detto che andiamo a fare la spesa direttamente in essence in questo caso io vado a parlare nello specifico non più per il consumatore ok? per chi vuole solo andare a risparmiare ma per chi vuole già anche guadagnare in essence perché? perché mediamente una spesa minima di 100 euro 200 euro mensile lì facciamo tutti i giorni in qualsiasi altro negozio ok? oggi ho deciso di andare ad acquistare in essence e faccio la stessa e medesima spesa ma la faccio in essence oggi addirittura essence ci ha messo a disposizione un best seller dove ci sono dentro 16 articoli i più usati i più consumati per andare a conoscere tutte le nostre gamme di prodotti c'è dentro anche la yogurtiera con i probiotici ok? i profumi la schiuma da barba lo shampoo la crema c'è praticamente di tutto per poterlo andare a provare tutto dicevo prima il discorso dei punti il best seller ci dà già subito 100 punti un punto in Italia equivale ad un euro ok? in realtà un punto equivale ad un euro più IVA però per semplificazione di conteggi diremo un punto uguale ad un euro come le schede fedeltà che abbiamo visto prima anche qua ci sono i punteggi solo che a differenza della scheda fedeltà che a fine anno magari andiamo lì e prendiamo il ciotolino il microonde magari tante volte capita che dobbiamo metterci sopra anche dei soldi ok? qua in questo caso oltre ad avere risparmio dal 30 al 40% in questo caso prendendo il best seller addirittura ho un risparmio di 121 euro che non è poco non è assolutamente poco facendo il discorso andando a fare il discorso dei punti quindi avendo raggiunto i 100 punti l'azienda mi riconosce già un 3% in più di guadagno c'è una scaletta di percentuale dove se si va ad aumentare il discorso della spesa quindi del fatturato che si va a fare in azienda ci vanno a dare delle percentuali da un 3 a un 28% adesso finora abbiamo parlato di spesa quindi 145 euro se consideriamo anche l'iva ho raggiunto il mio 3% quindi 100 punti mi riconosce un 3% in più cosa sono? sono 3 euro sono tante? sono poche? dipende dai punti di vista attenzione abbiamo fatto la spesa che comunque avremmo fatto da un'altra parte abbiamo avuto un risparmio di 121 euro e mi hanno pagato arrivano le commissioni direttamente sul mio conto bancario se io vado in un qualsiasi supermercato e compro la busta io la devo pagare non solo esco fuori dal supermercato e faccio anche pubblicità pago quella busta e faccio anche pubblicità qua non solo sono andato a comprare un prodotto di alta qualità ho risparmiato 121 euro mi pagano 3 euro ma come faccio ad arrivare a 15.000 punti facendo la spesa io penso che anche il miglior venditore del mondo andare a fare 15.000 euro di punti in un mese e diventa una cosa un po' complicata cioè devo andare a fare il porta a porta e faccio fatica a fare 15.000 punti il 28% di vendita anche facendo il porta a porta andiamo a vedere quindi come poter raggiungere questi 15.000 punti quindi 15.000 euro di fatturato teniamo sempre presente il discorso dei punti facciamo l'esempio del profumo un profumo da 50 ml costa 14.30 euro valori punti 11 a noi al pubblico 20 euro perché al pubblico perché siccome noi siamo inquadrati nel settore della vendita diretta noi possiamo fare volendo anche vendita quindi andiamo a vedere nello specifico vado a fare la spesa tu vai a fare la spesa direttamente in essence avendo nell'immediato il momento in cui fai la registrazione un risparmio prendendo il best seller di 121 euro fatto ciò non faccio altro che fare quello che ho sempre fatto e non mi hanno mai pagato incomincio a fare la pubblicità del sistema ti piace questo prodotto? vuoi comperartelo da solo? ok registrati registrazione gratuita vai a fare il tuo primo ordine supponiamo che anche queste persone sono interessate anche come noi a fare business quindi a guadagnarci anche loro magari andranno a fare tot punti e magari andiamo a parlare con A, B, C, D, E ok? e anche loro magari vanno a fare la loro spesa mensile magari c'è C che va a fare 100 punti c'è A che va a fare 400 punti quindi 400 euro 300 euro B e via dicendo e anche loro avranno diritto alle loro percentuali come noi il primo mese come tu il primo mese hai avuto quelle 3 euro dai tuoi 100 punti fatti anche loro avranno diritto alle loro percentuali ma attenzione l'azienda però va a fare tutti i conteggi dice grazie a te questo mese che hai fatto la spesa e hai fatto il passaparola hai parlato con i tuoi amici per andare ad acquistare direttamente in azienda anche loro hanno fatto spesa in azienda e magari hanno parlato con altre più persone perché magari e ha fatto un po' più di pubblicità e magari 800 punti quindi 800 euro perché ha già parlato con qualcuno totale di gruppo tu questo mese hai totalizzato 1900 punti quindi nella scaletta a fianco dove andiamo a vedere le nostre percentuali tu questo mese sarai un 9% non siamo ancora arrivati con 1900 punti a 12% a 2400 ma siamo un 9% 1900 punti quindi 1900 euro che cosa ci spetta? cosa ti spetta di guadagno? andiamo a fare 1900 euro per il 9% e viene fuori 171 euro di guadagno poi più se noi andiamo ad aggiungere le 121 euro del risparmio dell'acquisto sono 292 euro incomincia a essere una cifra che a molti magari non può interessare ma tantissime persone credetemi che fanno gola a 290 euro ok? ma una domanda sono tutti vostri questi soldi? vi rispondo io non sono tutti vostri perché se fosse così sarebbe la classica catena la classica piramide dove si va a guadagnare sulle persone e siccome Essence non è questo si guadagna per differenza di percentuale allora noi oggi siamo un 9% ma abbiamo B che è un 3% abbiamo A che è un 6% quindi andiamo a stornare quello che aspetta anche a loro 9 meno 3% di B su quella linea noi andremo a guadagnare un 6% su A andremo a guadagnare un 3% ok? e via dicendo totale dei guadagni che spettano anche a loro 9€ per quanto riguarda B 24 per quanto riguarda A e così tutti gli altri il totale sono 90€ 90€ da togliere alle nostre 292€ logicamente non preoccupiamoci perché questi conteggi li fa in automatico l'azienda ma andiamo a vedere quello che spetta a noi una volta tolto il guadagno che spetta anche a loro totale a noi ci spetta 202€ signori 200€ per aver parlato con 3 4 5 amici non abbiamo obblighi o vincoli di quante persone possiamo andare ad informare di questa possibilità quante persone conoscete voi che si lavano quante e quante secondo voi sono interessate ad avere un risparmio un prodotto di alta qualità ed un guadagno se incominciano a fare pubblicità tante tante persone sono interessate a questo andiamo avanti va da sé che se la cosa mi è piaciuto il prodotto mi è piaciuto e ha incominciato a fare anche pubblicità il mese successivo vado a rifare un ordine e magari questa volta non avendo preso il best seller magari ho preso che ne so altre cose che non sono inserite nel best seller e ho un risparmio in questo caso di 52€ rispetto a prima quindi come prima avevo già parlato con 5 persone sicuramente continuerò a fare il mio passaparola quindi parlerò ancora con F e con G ok stesso discorso di prima in questo caso anche loro avranno fatto le loro percentuali quindi il loro fatturato ma di conseguenza il tuo fatturato è cresciuto perché perché magari A che prima era un 6% anche lui ha visto le nostre 200€ di guadagno del mese precedente in questo caso anche lui vuole andare a prendere quelle famose 200€ e magari con il nostro aiuto perché fondamentalmente questo è un lavoro di team di squadra noi saremmo ben propensi di andarla ad aiutare perché a differenza di un lavoro tradizionale dove io dico sempre si va in giro con le pistole tipo sceriffo morte tua vita mia qua è tutto l'opposto se io non aiuto le persone che inserisco sotto di me a guadagnare dei soldi io non potrò mai raggiungere le qualifiche che magari mi prefisso o i soldi che voglio guadagnare ok quindi in questo caso aiuterò A a diventare da un 6% al 9% B è diventato un 6% e via dicendo ok quindi aiutiamo le persone a guadagnare dei soldi abbiamo parlato anche con F con G e quindi abbiamo aumentato il fatturato perché ho parlato con più persone e ho aiutato le persone che erano nel mese precedente già in attività a guadagnare ancora di più quindi a fare più fatturato cosa abbiamo sviluppato noi però questo mese questo mese tu hai sviluppato 4300 punti 4300 euro di fatturato questo è il primo traguardo nel nostro business che cerchiamo di far raggiungere alle persone e adesso andiamo a capire il perché 17% 4300 punti andiamo anche qua a vedere il conteggio che ovviamente farà sempre l'azienda 4300 euro per 17% e viene fuori 731 euro qua la somma incomincia a essere abbastanza interessante direi giusto? 731 sempre più le 52 euro del risparmio dell'acquisto che abbiamo fatto sono 782 euro anche qua come il discorso di prima anche loro anche i nostri amici avranno diritto sempre per differenza di percentuale a loro ok? quindi andiamo a togliere sempre 17% meno quello che ha guadagnato il 9% la rimanenza è quello che spetta a noi ma 108 euro spettano al nostro amico A come AB AF e via dicendo ci siamo il totale che dobbiamo togliere dalle nostre 782 euro sono 273 euro è quello che spetta anche a loro questa è un'attività meritocratica ricordatevelo totale che spetta a noi beh qui la cosa si fa abbastanza interessante anzi io toglierei anche l'abbastanza perché io non so quante persone possono andare dal loro datore di lavoro e dire da domani mi dai un aumento mensile di 500 euro e la vedo dura la vedo molto dura che ti diano un aumento del genere attenzione qui abbiamo guadagnato 500 euro aiutando le persone a guadagnare anche loro ovvio che dietro c'è anche un lavoro da svolgere qual è il nostro lavoro andare a parlare con le persone avere un risparmio e guadagno con una collaborazione con un team si può creare tutto questo oggi sta succedendo tutto questo è già realtà è già realtà ragazzi andiamo avanti siccome siamo stati bravi e come succede in tutti i posti di lavoro quando noi ci comportiamo bene e facciamo un buon lavoro ci premiano ovviamente è una battuta sarcastica perché di solito non funziona così in questo caso l'azienda per aver svolto un lavoro aver fatturato 4000 punti e quindi essere arrivati al 17% l'azienda decide di premiarci di darci dei bonus ok arrivati al 17% oltre a prenderci il nostro bel sacchettino che sarebbero l'equivalente delle 500 euro l'azienda decide di regalarci regalarci una vacanza premio in Turchia dove andiamo a visitare l'azienda Seluz dove vengono elaborate tutte le fragranze che noi poi dopo andiamo ad indossare ed è un qualcosa di veramente veramente eccezionale per chi c'è già stato qua in chat lo può lo può confermare noi ci siamo stati ed è una vacanza full 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 è bellissima tutto pagato ovviamente anche volo aereo tu entri dentro con un braccialetto praticamente non spendi nulla è una vacanza io ho fatto delle vacanze importanti e costose nel mio primo lavoro anni fa e credetemi che a questi livelli è difficile è difficile trovare una vacanza a questi livelli detto questo siccome dici tu hai fatto un bel lavoro l'azienda ti dà anche la possibilità di avere una macchina aziendale un Peugeot 208 hai la possibilità di fare una richiesta di una macchina bollo e assicurazione pagata targa della Repubblica Ceca devi mettere solo la benzina ed andare io adesso voglio fare una domanda ovviamente non potete rispondere perché ho chiuso la chat ma quanti rappresentanti conoscete fuori e quanti di questi rappresentanti con 4.000 euro di fatturato hanno la possibilità di avere una macchina aziendale di richiedere una macchina aziendale beh io mi conosco di amici rappresentanti perché ho fatto anche rappresentante nella vita e credetemi che non sono questi i target per avere una macchina aziendale si va ben oltre ben oltre per avere una macchina aziendale andiamo avanti sicuramente continuando sempre sullo stesso discorso di prima io continuo a fare i miei acquisti perché perché ogni mese avrò bisogno del prodotto lo shampoo mi sarà finito la schiuma da barba mi sarà finito il profumo mi sarà finito il dentifricio mi sarà finito quindi vado a riacquistare sempre nel mio negozio ci siamo quindi avrò sempre ipoteticamente sempre le 52 euro di risparmio ok anche qua stesso identico esempio di prima le persone che avevo già coinvolto in questo business ma magari ho parlato con altre due persone H e D ok e anche loro che cosa hanno fatto hanno fatto la stessa identica cosa che ho fatto io all'inizio hanno continuato a parlare con delle persone e io che cosa ho fatto ho continuato ad aiutarli non spaventatevi per le persone nuove ovviamente perché comunque all'inizio c'è sempre qualcuno che vi darà una mano a parlare a posto vostro perché perché nemmeno io sono nato imparato inizialmente c'è sempre stato qualcuno il mio sponsor ok che parlava per me che gli dava la spiegazione che gli faceva la presentazione usiamo fare anche delle serate in alcuni posti in tutta Italia dove si ha la possibilità di portare le persone a conoscenza di questo business c'è questo webinar che facciamo ogni lunedì ok quindi le persone anche loro cosa hanno fatto hanno aumentato il fatturato insieme a noi e anche loro sono cresciute ma noi questo mese che cosa è successo abbiamo fatto 13.500 punti tu questo mese hai fatto un fatturato di 13.500 punti il 25% vi ricordate all'inizio che avevo detto come faccio a raggiungere 15.000 euro di fatturato non ci siamo ancora perché non siamo ancora al 28% ma ci siamo molto 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 vicini ok ecco che cos'è il network marketing il passaparola andiamo a vedere qual è il tuo guadagno 13.500 euro per il 25% attenzione sono 3.375 euro lo ripeto 3.375 euro pochi operai riescono a guadagnare questa cifra è ovvio che non è che schiocchiamo le dita e arrivano questi soldi questi soldi sono venuti fuori grazie al passaparola grazie al coinvolgimento di alcune persone che hanno deciso insieme a noi di creare questo team di creare una rete di consumatori anche qua come detto in precedenza andiamo ad aggiungere le 52 euro del risparmio e sono 3.427 euro stesso procedimento di prima sono tutti nostri questi soldi assolutamente no dobbiamo andare a togliere quello che aspetta anche a loro e qua incominciano a guadagnare dei soldi anche i nostri collaboratori perché anche loro stanno incominciando a crescere anche loro puntano magari al pesciottino e magari vediamo A che ha fatto un 12% quindi gli spettano 300 euro e magari AB che ha fatto un 9% 144 euro e via dicendo per tutti gli altri andiamo a fare il conteggio di quello che dobbiamo togliere per loro quindi le nostre 3.427 meno le 1.308 euro che vanno restituite cioè vanno restituite vanno date come guadagno ai nostri collaboratori perché non spettano a noi ma spettano a loro ok sempre conteggi fatti dall'azienda a noi questo mese che cosa rimane 2.119 euro 2.119 euro di guadagno amici ci sono operai o impiegati che fanno fatica ad arrivare a questa cifra io non dico che schiocchiando le dita si arriva a questa cifra perché un lavoro fondamentalmente dietro c'è da fare parlare con le persone sicuramente come dico sempre io non andiamo a vangare la terra dobbiamo parlare con le persone e dobbiamo aiutare le persone a guadagnare dei soldi beh questo è fantastico questo è semplicemente fantastico oggi hai la possibilità di avere 2.000 euro al mese facendo quello che hai sempre fatto e attenzione perché non è finita qui noi andiamo a costruire in realtà delle vere e proprie rendite rendite si avete capito bene io mi vado a costruire le mie pensioni le mie pensioni nel netto urmatti adesso ci arriviamo ovviamente stesso discorso del 17% una volta arrivati al 25% l'azienda dice sei stato ancora più bravo quindi ti voglio ulteriormente pagare ovviamente qua i sacchetti sono aumentati rispetto al 17% che c'era solo un sacchetto qui simbolicamente ne abbiamo messi tre ma ci regala un'altra vacanza chi si qualifica al 25% ha la possibilità di andare una vacanza che ogni anno ci regala l'azienda il suo anniversario lo abbiamo fatto a Venezia quest'anno è San Pietroburgo e non vi dico che tipo di vacanza è strepitosa nei migliori alberghi si va a visitare l'intera città totalmente pagata dall'azienda arrivati a questo punto l'azienda però dice siccome sei stato talmente bravo che invece del peggiottino questa volta ti regalo un bel BMW BMW e qua le cose incominciano a essere abbastanza interessanti io direi giusto? non dimenticate mai una cosa però abbiamo semplicemente cambiato il nostro fornitore abbiamo parlato con altre persone che hanno fatto la stessa identica cosa e abbiamo creato un team di consumatori soddisfatti questo è il nostro lavoro oggi è ovvio che dietro c'è un lavoro di squadra un lavoro un team che porta avanti tutto questo io ci tengo a sottolineare questa cosa perché con la semplicità oggi si ha la possibilità veramente di andare a riprenderti in mano la tua vita 2000 euro per aver fatto quello che tu fai tutti i giorni costruendo una squadra di persone un team di persone tutti coesi verso un'unica direzione ed è bellissimo credetemi è bellissimo tutto questo piano avanzato io prima ho dato un accenno per ciò che riguarda le rendite o pensioni chiamiamole come vogliamo noi oggi abbiamo la possibilità di costruirci delle vere e proprie rendite sapete che cos'è una rendita sì cioè vi faccio un esempio un cantante ha fatto una canzone ha scritto un disco ancora oggi se io vado a comprare magari il disco non più ma il cd quel cantante ancora oggi ha le sue commissioni su quel cd o magari i suoi eredi qui è la stessa identica cosa ereditabile ai miei figli come ve lo spiego subito andiamo ad aiutare tre dei nostri amici ad arrivare alla qualifica del 17% e 4000 punti l'azienda ci riconosce un 2% del fatturato mondiale diventiamo manager oro ci riconosce un 2% del fatturato mondiale questo è spettacolare semplicemente spettacolare queste sono le nostre rendite qual è lo scopo che tutti noi che abbiamo deciso di farla seriamente questa attività andare a crearci delle rendite come faccio guadagnare i miei amici faccio guadagnare le persone che ho inserito le faccio guadagnare e a me spetta una rendita come iniziare ci sono due modi per poter incominciare non ce ne sono altri almeno per quanto riguarda il nostro team la nostra organizzazione ci sono due modi per poter incominciare la registrazione è gratuita l'azienda non mette nessun paletto nessun vincolo nessun pacchetto come tanti altri network che magari mettono ma attenzione io l'ho detto già all'inizio noi come team come organizzazione non regaliamo codici perché perché se tu sei intenzionato a registrarti è perché evidentemente vuoi andare quantomeno a provare i nostri prodotti anche perché se non fai il primo ordine e ti registri così non vedo perché tu ti debba registrare solo per avere un sito assolutamente no non funziona così quanto meno nel nostro team vuoi registrarti a zero ce ne sono le altre organizzazioni che magari lo fanno noi non lo facciamo per un semplice motivo io ti sto dando la possibilità di avere un sito completamente gratuito un sito e-commerce dove tu hai la possibilità con un link di mandare il tuo link e far acquistare anche le persone tramite questo link ti sto dando tutte queste agevolazioni e tutti noi sappiamo quanto costa avere un sito e-commerce e tu ce l'hai completamente gratuito senza nessuna spesa nel momento in cui vai a fare la registrazione vai a fare anche un ordine perché vai a testare te stesso i prodotti li vai a provare come fai a fare una pubblicità di un qualcosa che ti piace se tu per primo non la provi è assurdo è come se io invito un mio amico a casa gli dico che ho dei prodotti fantastici da fargli provare poi magari mi chiedono ad andare in bagno e vedono il dentifricio di un'altra marca escono fuori dal bagno secondo voi che cosa mi dicono Fabri la cosa non mi interessa è ovvio ma come mai io devo andare a prendere un dentifricio che tu non usi quindi ordine cioè registrazione contestualmente con un ordine almeno di 50-100 punti per un discorso di corriere per andare a pagare quanto meno possibile il corriere ma anche perché se non fai un ordine almeno di questa cifra come fai a provare almeno una o due linee dei nostri articoli la seconda fase per poter andare a fare la registrazione è da incaricato in questo caso andare a prendere il best seller se io sono intenzionato a farlo come business quanto meno devo andare a prendere il best seller e io aggiungo anche un'altra cosa anche lo starter kit dei profumi perché lo starter kit dei profumi il profumo è un qualcosa di personale se non lo provi lo starter kit non è altro che i campioncini dei profumi che costa 26 euro e ci dà anche 5 punti ci sono dentro 60 profumi 40 da donna e 20 da uomo tornando al best seller se io non ho in mano tutti i prodotti più commercializzati dell'azienda e non li vado a provare io come faccio ad incominciare questa attività come faccio a fare il passaparola di qualcosa che mi piace punto primo punto secondo ho un risparmio di 121 euro 145 euro per questi articoli credetemi che se voi andate a scorporarli uno ad uno non è nulla anche perché noi stiamo parlando fondamentalmente di un'attività commerciale a tutti gli effetti se voi andate ad aprire un negozio domani lo pagate 145 euro assolutamente no oggi con 145 euro tra l'altro non obbligatori io ho la possibilità di crearmi una mia attività commerciale quindi ricapitolando o da cliente 50-100 punti o da incaricato imprenditore prendo subito il best seller se voglio farla questa attività carpe diem dico sempre ma una cosa fondamentale senza cambiare le proprie abitudini iscriviti adesso subito come ho scritto qua massimo entro 24 ore perché? perché le cose belle vanno prese al volo e questa io non ho trovato una cosa negativa per non poterla incominciare garanzia soddisfatto rimborsato non perdo nulla male che vada mi sono lavato ho usato dei prodotti di alta qualità ma se mi va bene? e se tutto questo che oggi vi ho detto e il vostro amico vi ha invitato a conoscere fosse vero domani avrai la possibilità anche tu di guadagnare quelle cifre di andare a prenderti quelle 2000 euro e oltre se tu vuoi andare a costruirti delle rendite oggi si fa fatica a credere ancora nella pensione nello stato attuale in cui ci troviamo oggi me la costruisco da solo io la pensione ognuno di voi ha il vostro sogno ognuno di voi ha il suo obiettivo dove voler arrivare nella vita oggi essence è un'opportunità che ci fa arrivare dove noi vogliamo essence è uno strumento sta a voi decidere di prendere al volo questa opportunità non ci sono motivi per non incominciare questa attività la fiducia io credo che sia dovuta questa slide per un semplice motivo la persona che vi ha invitato questa sera ad ascoltare questa presentazione ci tiene a voi e ha voluto farvi questo regalo mettervi a conoscenza di quello che lui sta facendo avere anche voi la possibilità di cambiare in breve tempo e senza rischi imprenditoriali di cambiare la propria vita dategli fiducia finito il webinar alzate su quel telefono tanto lo alzerà sicuramente la persona che vi ha invitato per chiamarvi ma se lo fate prima voi dimostrate di avere voglia quantomeno di approfondire e di andare a capire se la cosa può fare per voi oppure no non fatevi la domanda opposta ve lo dico io subito per primo l'attività funziona bisogna vedere se noi funzioniamo per lei bisogna vedere se noi funzioniamo perché l'attività è già constatato funziona sta andando alla grande l'azienda è ottima con dei risultati incredibili quindi alzate quel telefono e chiamate la persona che vi ha invitato questa sera e prima di tutto ringraziatela ringraziatela perché ha pensato a voi ha pensato a voi per dare una possibilità un'opportunità crearvi delle rendite ora tocca a te sì proprio come c'è scritto lì ora tocca a te prendere la decisione comincia a costruire i tuoi sogni prima che qualcuno ti assuma per costruire i suoi grazie per la tua attenzione e benvenuto a bordo se deciderai per un sì anzi prima di chiudere io chiudo sempre con questa slide spesso il motivo perché non fai una cosa è lo stesso motivo perché la dovresti fare perché voi stasera potreste trovare tante scuse dicendo no io non posso farla perché non ho tempo no io non posso farla perché ho degli impegni no io non posso farla perché non ho soldi no io non posso farla per questo o per l'altro ma gli stessi identici motivi possono essere quelli che vi fanno scattare la molla per decidere di fare questa attività perché io questa attività oggi la faccio perché non avevo soldi perché non avevo tempo perché magari voglio stare più tempo insieme ai miei figli e per tutti perché erano prima no oggi faccio questa attività io spero di essere stato più chiaro possibile adesso riapriamo la chat se avete altre domande me le potete fare e ripeto fino all'infinito fate la telefonata al vostro amico e chiedetegli se avete delle altre domande da fare e incominciate non avete nulla da perdere per chi ha deciso buona attività sicuramente ci conosceremo di persona per chi non deciderà amici lo stesso e magari ci vedremo e ci conosceremo ugualmente di persona apriamo la chat bene 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 se siete arrivati fin qua e state ancora ascoltando la mia voce perché evidentemente siete stati su quella fascia di scettici ma scettici intelligenti che avete visto fino alla fine di ciò che trattava il nostro business io vi faccio i complimenti per averlo ascoltato tutto per avermi sopportato per un'oretta circa e essere andati fino in fondo a vedere di ciò che si trattava e vi invito ancora una volta a prendere un secondo appuntamento con chi vi ha passato questo link e approfondire anzi più che approfondire oramai io direi di fare subito la registrazione e fare subito un primo ordine andate a testare con mano voi stessi i nostri articoli andateli a provare dopodiché non dobbiamo stravolgere la vita di nessuno dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto solo che facendo la pubblicità di un qualcosa che a me piace mi trovo bene vado a guadagnare dei soldi credetemi oggi Essence è una delle poche opportunità per poter veramente cambiare la vita di chi vuole veramente cambiarla ok io vi saluto lascerò i miei riferimenti in descrizione sotto e buona attività a tutti per chi ha deciso per un sì e per un no va bene lo stesso magari avremo modo di conoscerci di persona ciao ciao a tutti da Fabrizio ciao a tutti Grazie a tutti